I sanitari del 118 e dell'Eliambulanza hanno soccorso un anziano sull'ottantina d'anni che nel pomeriggio di oggi è scivolato dalle scale della sua abitazione situata in via Alessandrini a Centocroci nel comune di Mondolfo. A dare l'allarme è stata la moglie che lo ha trovato ferito. L'anziano è stato trasportato al torrette di Ancona ma sono ancora sconosciute le condizioni dell'uomo che nella caduta ha battuto violentemente la testa. Grazie